Maria Lisa Del Vecchio, Awardness by Design. Ciao a tutti, mi avevano detto che non si vedevano le facce da qua, ma purtroppo vi vedo proprio tutti, quindi sono molto più agitata del previsto. Per me è veramente un onore essere su questo palco, perché fino all'anno scorso ero al vostro posto, però ho preso coraggio e ce l'ho fatta a parlare di qualcosa che mi appassiona davvero molto, che è la consapevolezza by design. Qualche informazione su di me. Allora, mi chiamo Maria Lisa Del Vecchio, e questo lo sappiamo, e ho pensato come fare questa slide veramente tante volte, poi dopo ho pensato, boh, sono una millennials, lo faccio con dei disegnini. Quindi, ho iniziato a studiare, in realtà poco tempo fa, e ho finito l'università un anno e mezzo fa, ho studiato a Crema come metà di questa platea. Quindi, chi è che ha studiato all'università di Crema? No, dai, fate i timidi, siete stati molti di più. No, va bene, ok. La mia tesi è stata sulla privacy e dati personali, una tematica che mi appassiona veramente molto, e purtroppo, vi avviso, vi spoilerò questa cosa, parlerò di GDPR, non ve la siete scampata dall'anno scorso. Grazie a questa passione, grazie ai miei studi, ho trovato lavoro, e lavoro nell'assicurazione informatica ormai da tre anni, però non ho mai messo da parte le mie passioni. Continuo a fare musica, fare foto, video, viaggiare, ma soprattutto stare in compagnia e bere. E sono mamma di due fantastici gatti, e da poco ho comprato casa, che è comunque una soddisfazione che va detta. Bene, awareness by design. Parlando di questa tematica ho pensato, com'è che introduco? Volevo partire dall'independent oversight board, che è un organo che è stato istituito da Facebook, e per la prima volta sono stati messi al centro dell'attenzione le persone e i loro dati personali. Questo bilancio tra che cosa è effettivamente l'utente e che cosa è effettivamente nelle mani dell'azienda. Però, comunque, visto che siamo informatici e siamo molto appassionati di definizioni, parliamo di che cos'è la privacy. Una definizione di tre cani, di che cos'è la privacy. La privacy è la vita personale, privata dell'individuo e della famiglia, in quanto costituisce un diritto e va perciò rispettata e tutelata. Capite bene che un concetto così ampio è veramente difficile da compensare in una definizione. Quindi, parliamo un po' di storia della privacy. Tutto inizia nel 1890 con The Right to Privacy, scritto da questi due signori, Brian Daze e Warren, su Law Review. Immaginatevi due giuristi che parlavano di privacy quando sostanzialmente non esisteva internet, non esisteva la reale divulgazione. E hanno detto la privacy è quella cosa che ci consente di godere della nostra vita. The right to privacy, the right to be let alone, the right to enjoy life. La privacy è questo, il diritto di potersi godere la propria vita e di essere, onestamente, anche un po' lasciati in pace. Per un bel po' di anni non si è parlato di privacy, perché comunque dal 1890 in poi sappiamo tutti gli avvenimenti storici che ci sono stati, finché nel 1960, Prosser, sempre su un Law Review, questa volta della California, ha modellato finalmente la privacy secondo quattro concetti che noi ad oggi diamo per scontato, che sono la violazione di domicilio, la vita privata, la proprietà intellettuale e il consenso. Quindi anche tutti questi temi che solitamente noi magari attribuiamo ad altre aree della legge, comunque ricadono sotto il cappello di privacy. Ok, 1960, è passato un po' di tempo e oltre alla California, oltre all'America, comunque un po' tutti gli stati si sono armati. Qua ho riportato alcune delle, diciamo, normative, c'è anche l'Italia. Volevo provare il laser. Però arriviamo finalmente nel 2018 al tanto temuto GDPR, che in realtà il 2018 però ha un regolamento del 2016. Ci sono voluti due anni per sistemarlo, per farlo entrare in vigore e per finalmente far capire agli utenti quanto fosse importante. GDPR, privacy, ci parliamo principalmente di dati personali. Dati personali, quindi relativi alle persone. Però che cos'è successo? Che cercando su internet tutta la gente, mia madre mi chiamava, mi diceva Mari, ma che cos'è sto GDPR? tutti ne parlano e c'erano meme, libri, gruppi su Facebook, qualunque cosa, video, che ci spiegavano come attuare GDPR, email a cannone, che si è trasformato da una tutela dell'utente a puro spamming. Però l'utente tipo, quindi l'utente non tecnico, l'utente che non sa che cosa sia la privacy o che cosa si nasconde all'interno di un computer, diceva, vabbè ma, tanto io non ho nulla da nascondere. Eppure, a me questa, non so a voi, sembra una scusa. Perché, è facile dire che non abbiamo nulla da nascondere, però in realtà, noi, soltanto accendendo il computer, soltanto, non lo so, consultando la nostra email, logandoci all'interno di un bar, comunque ci esponiamo in qualche modo, però inutile che ve lo spieghi, voi siete più bravi di me. Ma, quindi, che cosa sono i dati personali? Cioè, parliamo di esposizione su internet, parliamo di ciò che caratterizza un utente. Vi vorrei soffermare soltanto sulla prima frase del GDPR. Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile. Quindi, capite bene che non stiamo parlando solo di nome e cognome, parliamo di qualcosa di molto di più. Ok? Visto che si avvicina l'ora di pranzo, visto che siamo tutti affamati, mi sto costringendo a guardare della pizza. Possiamo raggruppare i dati personali principalmente in quattro fette di pizza. Informazioni mediche, dati classici, quindi categoria dentro cui ricade nome e cognome. Il nostro comportamento online, e le nostre informazioni finanziarie. Vi sembrano tanti? Vi sembrano pochi? 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 A me sembrano tanti. Perché ad esempio, banalmente, se hai delle malattie, il tuo IP, i tuoi dati biometrici, le tue foto, tutte queste informazioni aggregate possono profilare una persona ed è molto facile rubargli l'identità o fingersi sì, quindi rubargli l'identità. Capite bene che non sono proprio poche le informazioni. E la cosa peggiore è che l'utente medio non ha consapevolezza di questo. Quindi, banalmente, anche parlando per strada qualcuno, gli confessa cose che in altre situazioni possono profilarla. ma ok, abbiamo parlato di dati personali. Ora sappiamo tutti quelli che possono essere dati personali o comunque abbiamo già una visione un po' più chiara. Però il GDPR ci parla di trattamento dei dati personali. Ci dice che se i dati vengono trattati allora tu li devi in qualche modo proteggere. Però cosa vuol dire trattare i dati personali? Beh, voi immaginatevi di avere una fonte che può essere non per forza un blog, non per forza un contratto della vostra macchina. Potrebbe essere anche una conversazione, potrebbe essere un'intervista che sentite qualunque cosa. Immaginatevi di processare queste informazioni ed estrarre tutte le informazioni che possono essere riconducibili in qualche modo a delle persone. Bene, se fate una di queste cose potrebbe essere salvare questi dati, cancellarli, fotografarli, condividerli con qualcuno, beh, questo è trattamento. Quindi immaginatevi quante cose, quanti dati vengono trattati, quante persone non sono consapevoli di tutti i dati che vengono trattati. Banalmente quando vi scrivete in palestra, quando vi consultate un sito dovete sempre consentire a qualcosa che sia una cookie policy, che sia una normativa dei dati e tutti quei dati in qualche modo vengono trattati, riciclati e riutilizzati per fini più o meno leciti. Vi faccio un esempio, Facebook penso che lo conosciate tutti, non c'è bisogno che io metta qua a spiegare che cosa sia, è veloce e semplice. Dietro questa bellissima frase si nasconde un è veloce e semplice, quindi non leggere tutto quello che dovresti leggere. le condizioni, cosa si nasconde dietro le condizioni? Si nascondono veramente molte cose, Facebook si nasconde dietro questa frase, poi non è solo Facebook, in realtà più o meno tutti i siti lo fanno, di offrire un'esperienza personalizzata all'utente, peccato che così facendo voi siete tracciati, noi siamo tracciati per ogni cosa che esponiamo su Facebook e soprattutto quali sono queste informazioni che vengono raccolte? Si parla di informazioni che ci riguardano, nella nostra vita online qualunque informazione ci riguarda e ad esempio se ci colleghiamo a internet da casa nostra, se utilizziamo degli hashtag più frequentemente o se ad esempio mi vengono in mente ci colleghiamo, parliamo più spesso con determinati tipi di persone, consultiamo pagine che ci possano in qualche modo far capire che andiamo verso una direzione piuttosto che un'altra. Oppure anche tutto ciò che riguarda le transazioni, se fate ora va molto di moda appena sta scattando il compleanno fare le donazioni. Ecco, anche quello, sono tutti i dati che in qualche modo vengono riutilizzati. Quindi lasciate che vi dia i miei consigli. Prima di consentire al trattamento dei dati personali è bene almeno controllare queste cose. Quindi chi vuole i tuoi dati? Quindi chi è il titolare del trattamento dei dati? Quali dati vuole? Ma soprattutto perché te li sta chiedendo perché tu palestra che mi vedi una volta al mese vuoi sapere tutti i miei dati dall'inizio alla fine? Esempio. Quindi avere ben chiaro qual è anche la finalità del trattamento. Come verranno trattati? Dove verranno conservati? Per quanto tempo? Ma soprattutto quando finisce il rapporto tra il sito, tra il servizio, tra il diciamo il titolare del trattamento e voi che cosa succede a quei dati? Restano voi sapete dove sono finiti tutti i vostri dati? Io onestamente no. E per farvi un esempio c'è una famosa app di cui non vi posso fare il nome che una volta disinstallata quello che succede è che continua a tracciarvi e continua a storicizzare sempre tutti i dati che voi continuate a generare. Ma c'è comunque tutto questo discorso molto bello ma di quanti dati stiamo parlando? Cioè quante persone riguardano questi dati? Considerate che nel mondo siamo circa 8 miliardi diciamo centinaio più centinaio meno possiamo dire che il 30% di questa popolazione non ha accesso a internet il restante 70% sì e circa l'80% di questo 70% ha social network ora visto che contiamente non sono brava a farli in Italia siamo circa 35 milioni nel mondo 3 miliardi e mezzo di persone capite bene che gente che non è consapevole di tutte le informazioni che mette su internet aziende che non sono poi così disposte a spiegare di volta in volta tutti i dati che in qualche modo rubano o comunque utilizzano siamo di fronte a veramente molti dati i famosi big data però è un po' lasciatemi dire stupido nascondersi dietro big data perché questi sono un bel cluster definito di dati che possono essere utilizzati e soprattutto si ha una targetizzazione già a priori dei nostri utenti e soprattutto sono felice che ci sia carola nel pubblico perché sto per parlare di te senza che lo sapessi prima le informazioni si esaurivano immaginatevi nel 1900 quando i nostri giuristi scrivevano sul loro review il loro concetto di privacy era semplicemente ho sentito questa cosa questa cosa parla di quella persona io ho infranto la privacy ora invece è un la ragazzina si è uccisa perché sono state divulgate tutte le sue notizie online quindi capite che il peso dell'informazione è cambiato ma questo perché perché gli esperti di divulgazione un tempo erano persone che vivevano che lavoravano grazie all'accesso a queste informazioni ora invece tutti siamo opinionisti della vita degli altri e questo ha reso le informazioni sempre più potenti le persone sempre meno consapevoli di quanto potere ci sia dietro le informazioni ma quindi com'è visto che abbiamo accesso a tutte queste informazioni visto che comunque siamo persone con un minimo di intelletto come possiamo comunicare efficacemente nel mondo digitale beh forse prima è meglio chiarire che cosa significhi comunicare che cos'è una buona comunicazione secondo il modello di Jacobson la comunicazione è efficace se esistono questi sei elementi ok visto che siamo informatici faccio un esempio attaccante che parla che deve veicolare il suo messaggio verso un utente immaginatevi che il contesto sia la quotidianità e che mandi questo messaggio tramite social media con un post e che lo scriva nella lingua del suo utente secondo voi è una cosa possibile a priori sapere tutti questi elementi per far sì che la comunicazione tra l'attaccante e l'utente sia efficace no perché noi non abbiamo un reale contatto con il nostro utente perché nel momento stesso in cui noi lanciamo un'informazione su internet quello che succede è che è pubblica è per tutti quindi ciò che manca è il contesto è ciò che rende l'informazione anzi la comunicazione non efficace e lasciatemi parlare di FOMO che sta per Fear of Missing Out ed è una diciamo ormai una malattia una patologia che affligge il 56% degli utenti online persone che godono della vita degli altri e che sono che sono felici solo se possono fruirne no che hanno paura di essere lasciati fuori dalla vita delle persone e quindi sono persone iperconnesse che sono insoddisfatte che fanno acquisti compulsivi hanno bassi aspettative parliamo di un milione e mezzo di persone sono tante immaginatevi di essere un attaccante e sapere che un milione e mezzo di persone su internet hanno queste caratteristiche questo infatti soprattutto nei social network ha portato ad avere milioni di attacchi e social network sono diventati il maggiore vettore di attacco portando delle revenue altissime sfruttando i soliti quindi il phishing il malware phishing nel 2019 fa ridere ma è ancora uno degli attacchi più diciamo dà molte soddisfazioni e quindi unendo le nostre competenze informatiche alle nostre doti comunicative è possibile sfruttare l'ingegneria sociale e aggiungerei un estica no non si può dire beh diciamo che questo non è abbastanza ok e vi parlo di questo scandalo che più o meno tutti conosciamo Cambridge Analytica però in realtà tutti in retroscena cioè ci vuole un bel po' per per scoprirli tutti perché veramente molto ingarbugliata come come storia tutto nasce dall'app This is your digital life pubblicata su facebook 3-4 anni fa in un momento in cui facebook andava veramente tanto ancora prima di tutto il no facebook via i social network e è stata pubblicata quest'app principalmente il target era americano e niente tu rispondevi a un questionario ti tracciava un po' la vita ti ti monitorava tu avevi questo una sorta di profilo psicologico no e peccato che grazie appunto a questa feature di facebook l'owner dell'applicazione che guarda caso era Cambridge Analytica aveva accesso sia ai dati dell'utente che a tutte le informazioni pubbliche degli amici degli utenti e diciamo che le informazioni pubbliche a volte fanno figo no più cioè perché devo collegarmi con qualcuno su facebook basta che guardo tutto ciò che è pubblico mi faccio un po' gli affari suoi quindi a volte per l'utente anzi è molto meglio avere più informazioni possibili rese pubbliche e quindi diciamo che hanno raccolto un bel po' di dati avevo fatto una slide con dentro tipo 20 tesserine sembrava calciatori panini ho deciso di tenerne tre che di persone che secondo me sono le più fondamentali in questo scandalo sono Christopher Wiley Steve Bannon e Trump Wiley è la persona che mi sta permettendo di parlarne oggi perché ha portato alla luce questo scandalo un po' come ha fatto Snowden con vabbè qualcosa di un po' più serio però è anche un po' più grande però diciamo che i whistleblower vanno sempre ringraziati e Steve Bannon invece diciamo che è un po' il man in the middle della questione perché era sia nella campagna politica di Trump che nel consiglio direttivo di Cambridge Analytica e poi vabbè Trump penso non abbia bisogno di presentazioni però conosciamo tutti bene quindi voi immaginatevi questa app è stata pubblicata sono state raccolte le informazioni 87 milioni di informazioni un bel po' sono state analizzate sono stati creati dei profili psicologici e poi sono stati condivisi con Trump e Trump ha vinto questo così è andata è andata così perché come si vede qui questa è un'email che è stata scambiata da Alex Kogan e Christopher Wiley Alex Kogan è stata la persona che ha sviluppato l'applicazione quindi diceva ehi Chris guarda quanta quanta roba possiamo fare con questa applicazione noi soltanto avendo dando accesso agli utenti a questa applicazione noi riusciamo a profilarli con almeno queste caratteristiche questo ha portato grazie soprattutto alla alla pubblicità quindi sia quella online che offline ad avere la l'elezione di di un politico qua non parte però non so se la conoscete questa di Jeff senator we run had no cavolo la venterò sul gruppo telegram così lo vedrete e quindi LCLC è la capogruppo era la capogruppo di Cambridge Analytica società che si occupa di comunicazione strategica Cambridge Analytica che quello che fa è faceva consultazioni per i politici per migliorare le loro campagne politiche quindi già partnership molto potente ha portato a un micro targeting comportamentale delle persone quindi dei database in cui si sapeva che se una persona viveva in quella determinata contea e faceva quelle determinate cose allora era un possibile candidato immaginatevi cartellonistica creata apposta in determinate contee perché sapevano che le persone in quella contea facevano con lo stile di vita e quindi era meglio puntare su su quello invece che su altri aspetti quindi molto importante il contributo di Wiley perché ha ammesso di aver creato lui insieme a tutta la sua squadra di lavoro un reale tool malefico di profilazione degli utenti quindi giusto per fare un passo indietro abbiamo detto che comunque la pubblicità è importante sono stati creati veramente molti profili psicologici i dati sono tanti ma quanti sono questi dati beh ho deciso di riportarvene qualcuno secondo me sono quelli un po' più significativi da quando lavoro in consulenza mi sono resa conto che 3 milioni di email al secondo sono anche poche quindi però è un dato che riesco a capire molto bene oppure quante ricerche su google si possono fare cioè non si possono fare si fanno ogni giorno sono tanti sono veramente tanti i dati quindi voi immaginatevi di avere questi dati targetizzati in base ai vostri utenti ma ora tralasciando un attimo il discorso Cambridge Analytica voi immaginatevi di essere un'azienda e avere accesso a queste informazioni di utenti non consapevoli del potere che hanno proprio loro come persone quindi in realtà il potere di tutto questo scandalo è stato dato principalmente da quattro fattori il primo una grossa conoscenza di come funziona la personalità umana grazie all'Ocean model che modella le personalità seguendo queste cinque macro categorie dei dati personali diciamo non grezzi dei dati personali utili la pubblicità che ha giocato un ruolo molto fondamentale ma soprattutto l'azione politica questo ha fatto sì che Cambridge Analytica fosse una società di consulenza politica molto importante perché non sono gli unici a farlo cioè anche in Italia tutti i politici sono seguiti da società che si occupano di consulenza politica ma il potere è stato unire le competenze lato comunicazione a quelle più prettamente diciamo di digitali questo era il modo in cui si sponsorizzavano quindi diciamo che ne erano molto consapevoli quindi di che cosa abbiamo parlato finora abbiamo parlato di che cos'è la privacy quindi diritto ad essere lasciati in pace il fatto che noi come persone nel mondo veicoliamo molti dati e noi proprio siamo costituiti molto sia di acqua che di dati mettiamola così e in quanto persone e diciamo che penso che tutti noi siamo attivi su internet chi più chi meno l'importanza della comunicazione il fatto di poter di saper comunicare in maniera efficace di essere consapevoli del nostro ruolo su internet ma anche del nostro ruolo nella vita perché per quanto internet sia importante molte di queste cose si possono fare anche senza accendere un pc e ciò ne insegnano i migliori hacker della storia ci manca un pezzo questo pezzo è l'etica l'etica nel senso che noi come persone considerando quanto potere abbiamo nell'essere consapevoli di quanto valiamo quindi qual è la nostra privacy e di quanto possiamo comunicare ci manca un valore etico se no noi potremmo diventare le peggiori persone sulla faccia della terra abbiamo bisogno di avere il concetto di bene e male di che cosa è giusto di che cosa possiamo fare sia per migliorare il mondo perché alla fine penso sia un po' la missione di tutti visto che viviamo tutti dobbiamo convivere per un bel po' di anni su questo pianeta ma soprattutto la consapevolezza nel mondo digitale una ventina di minuti fa no di meno una decina di minuti fa ho mostrato questa slide e c'era scritto beh ma tanto io non ho nulla da nascondere in realtà tutti abbiamo qualcosa da nascondere ma anche i gatti non solo i dati personali sta a noi proteggerci ok e appunto agendo in maniera etica o almeno provandoci etica l'etica è un mondo enorme avrei avevo preparato anche delle slide su come l'etica viene vista nel mondo cristiano su tutte le discipline poi ho perso troppo tempo e quindi ho detto no focalizziamoci sul punto l'etica è importante ma ciò che ci interessa a noi in quanto esperti di sicurezza sicuramente è la giustizia quindi quel valore sociale per cui si riconoscono i diritti altrui così come si vorrebbero rispettati i propri è un messaggio molto forte secondo me molto forte infatti non a caso l'ho rubato da una comunità molto forte quella cristiana invece Apple che è un filosofo ci parla di giustizia e di comunicazione in un modo molto interessante ci dice che la comunicazione è lo spazio principale dell'agire umano e su questa si basa la capacità di comprendere la giustizia che un po' ritorna a quello che dicevo prima cioè il fatto che noi viviamo tutti insieme in questo pianeta in qualche modo dobbiamo continuare a sopravvivere non è che possiamo ammazzarci perché sappiamo che qualcuno non cambia la password e veicola tutti i suoi dati personali verso posti dalle dubbie dai dubbi fini diciamo quindi facciamo un passo indietro fino ad aver parlato in maniera molto brutta delle persone dicendo che sono l'anello debole ma in realtà è questo noi ci occupiamo di sicurezza informatica e ciò su cui agiamo sono le macchine sono i sistemi cerchiamo di mettere in protezione di tutto ok però raramente ci concentriamo sulle persone però immaginatevi di avere la stanza più sicura del mondo protetta in tutti i modi possibili e l'anello debole è la persona un attaccante molto bravo riuscirà ad entrare in quella stanza si presuppone quindi in quanto esperti di sicurezza informatica dovremmo ogni tanto anche occuparci del lato umano del del cioè di quello che facciamo e come potremmo farlo? beh valorizzando le persone valorizzando il lato umano della catena quindi prendendo l'anello debole e trasformandolo nel protagonista e questo si può fare insegnando alle persone che cos'è la consapevolezza che cos'è l'etica come si può agire le persone il pensiero umano è veramente molto difficile però è molto facile insegnare a qualcuno come agire basta dargli degli strumenti che sono la privacy la consapevolezza di che cosa sia la privacy come comunicare e soprattutto il pensiero etico tutte tutte queste cose insieme ci danno la consapevolezza consapevolezza eh by design questo era il awareness by design questo era il titolo è il titolo del talk mi piace pensare al termine by design poi sostanzialmente questo che vuol dire come le fondamenta di qualcosa che noi stiamo costruendo può essere il servizio più bello del mondo che può essere la nostra vita sui social può riguardare sia noi sia altre persone che qualunque altra cosa ok però non è importante solo la consapevolezza importante anche la sicurezza ma la sicurezza è intesa come qualunque aspetto di sicurezza security a 360 gradi sicurezza che va dalla cyber security ma anche insegnare alle persone che si buttano i fogli su cui si scrivono le password nel cassonetto senza tritarlo molto probabile che un attaccante possa rubargli quella spazzatura o che se sei metropolitana forse non è tanto bello che tu ti metti a parlare con il tuo consulente bancario di tutti i tuoi fatti soprattutto la privacy siamo in un mondo digitale soprattutto in cui è bello esporsi è bello far sapere la propria idea è bello farsi conoscere per tutto ciò che rappresentiamo perché siamo passati da un periodo in cui prima dei social network in cui le persone non erano valorizzate ad avere una sovraesposizione delle persone pensate a tutta la generazione Z che posta la sua intera vita su video di 15 secondi su TikTok o alle mamme che pubblicano tutte le foto dei loro figli bisogna insegnare alle persone che cos'è la privacy che è giusto soprattutto proteggersi ma non solo i dati anche noi anche tutto ciò che abbiamo compriamo la macchina più bella del mondo l'ultimo modello e ha quella vulnerabilità quella vulnerabilità che noi non conosciamo noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che dobbiamo in qualche modo proteggerci dobbiamo anche difenderci difenderci forse posso sembrare un po' paranoica però è bene considerarli un po' tutti questi aspetti soprattutto intelligence intelligence che va dall'intelligenza alla quale noi siamo abituati all'atretto intelligence ma anche all'artificial intelligence siamo circondati da artificial intelligence non guardo tutti i vostri polsi ma sono convinta che molti di voi abbiano uno smartwatch o che abbiano Alexa in casa che abbiano Siri qualunque cosa l'IoT e tutto ciò che è intelligenza artificiale è un grosso raccoglitore peraltro in cloud quindi ancora più difficile da capire quanto possa essere grande e dove possa trovarsi di nostri dati quindi avrei ancora dieci minuti ma visto che siamo andati lunghi mi accorcio io la consapevolezza la consapevolezza è qualcosa di veramente molto importante spero di in questi 40 minuti di avervelo fatto capire e niente questo era awareness by design spero di avervi convinto che queste sono tematiche importanti per noi esperti di security grazie no volevo proiettare un'ultima slide posso grazie perché vado molto fiera di questa slide l'ho fatta a casa mia questo è il mio calorifero quindi scusate brava questi questi libri non li ho citati in tutte le slide però in realtà sono leggendo soprattutto il primo e il secondo ho capito quanto fosse importante parlare di questo a una community molto più tecnica perché sono libri rivolti a psicologi sociologi persone che non fanno il nostro mestiere e quindi ho pensato perché loro devono sapere di security e noi di security non ne dobbiamo sapere niente di questa roba che ci riguarda e quindi niente questo era il mio calorifero grazie grazie tieni il microfono perché ci sono delle domande abbiamo un sacco di domande ma ne scelgo un paio non le vuoi? no 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 se vuoi le facciamo se no ce ne diamo allora sappiamo attenzione sei pronta hai le cuffie sappiamo che google ha degli enormi server big data eccetera dove immagazzina tutti i nostri dati personali le nostre abitudini le nostre vite online aggiungo io domande da 100 milioni di dollari come possiamo fare per proteggerci al meglio sulle nostre piattaforme mobile cioè cellulari grazie della precisazione perché avete scritto mobile nel caso era il mobile forse non lo so sui social e sulla semplice navigazione browser quindi cosa può fare l'utente insomma in sostanza per proteggersi al meglio il consiglio numero uno è non avere social però direi che se la domanda arriva ce le avete comunque oltre ai soliti classici consigli del cambio alla password eccetera che però non c'entrano con questo argomento sicuramente avere la piena consapevolezza di quello che esponiamo o banalmente abbiamo tutti i profili non lo so faccio l'esempio il mio social preferito che è linkedin mi rende un po' triste forse dirlo però quello che io metto su linkedin riguarda principalmente la mia vita lavorativa non mi sognerei mai di mettere foto di cose che non riguardano la mia vita lavorativa allo stesso tempo se ho un profilo instagram non mi sognerei mai di mettere tipo questo è il mio ufficio questo è il mio cliente saluta perché sono mondi diversi quindi sicuramente avere la consapevolezza di quali siano i dati le foto sono il dato personale più diciamo più difficile da tutelare perché pensiamo che non lo sia sono stata chiara? non so assolutamente però c'è un'altra che è più difficile quindi devi essere pronta ciao è la domanda hai schippato in due secondi la slide che dice che ogni messaggio di Trump è data driven puoi approfondire il concetto? sì quanti minuti ho? uno no uno ok abbiamo parlato dei cioè del fatto che tutti i profili psicologici siano stati fatti grazie a un'applicazione ok e tutti questi dati in qualche modo sono stati immagazzinati e qualunque informazione politica venisse data era proprio rivolta a uno specifico target del come dire della campagna quindi il motivo per cui è data driven è perché non contava effettivamente tutto ciò che Trump avrebbe poi potuto fare ma contava quello che l'utente c'è il votante come si chiama grazie l'elettore pensava quindi era un po' entrare nella mente delle persone ma visto che non si può fare gli hanno rubato tutti i dati basta sei stata ottima e riporto l'ultima anche tu nessuna domanda complimenti alla relatrice per la presentazione l'esposizione bellissima direi che chiudiamo bene grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti